Salve a tutti, popolo del web. Rieccoci in un nuovo video, l'argomento che discuteremo tutti insieme. Il Benevento ritorna in serie A dopo due anni di purgatorio in serie B. E discuteremo tra qualche istante, non dimenticate di mettere like al video, cosa molto importante, iscriversi al canale per non perdere le news. Il Benevento è stato promosso in serie A dopo due anni di purgatorio in serie B. Non era affatto facile, ma la squadra è stata affidata a Pippo Inzacchi. Sappiamo che Pippo Inzacchi è un bravo allenatore. Comunque il Benevento migliora attacco e migliora difesa della serie B. Adesso bisogna fare la squadra per la serie A. Comprare i giocatori di categoria. Lo so, non sarà facile. Do il bentornati in serie A al Benevento. Spero che faranno un campionato decente, anche se non sarà facile. Siamo giunti al termine di questo nuovo video, ma raccomando. Condividiamo video in coppie social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi voglio bene a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.